Arriva domenica alle 18.30 a Ronconi di Gubbio lo spettacolo TikTokers curato dalla compagnia Galli Illuminati Contemporary Theater in collaborazione con il Teatro della Fama. Uno spettacolo sotto forma di stand-up comedy drama ovvero l'improvvisazione comica all'interno di uno spettacolo neorealista che vuole creare spunti di riflessione tratti dalla realtà odierna e dallo sconfinato universo giovanile degli influencer e dei TikTokers dove oltre ai monologhi e dialoghi c'è ampio spazio anche per musica e danza. Tra gli attori tutti professionisti ci saranno anche gli Eugubini, Roberto Berettoni e Leonardo Paradisi con la regia firmata da Nicola Sgallo che svela alcune anticipazioni di ciò che il pubblico vedrà a Ronconi ricordando come è nata la connexion con la compagnia Eugubina del Teatro della Fama. Andiamo a proiettare diciamo un po' questa questa battaglia tra i personaggi così di facciata poi invece il talento e abbiamo appunto anche due attori del Teatro della Fama, questa collaborazione che abbiamo appunto ritrovato dopo anni grazie appunto alla prima, al primo incontro che ci fu nel 2016 con appunto il Teatro della Fama e Ugo Pagliai e Paola Gasman per Mirabile Cosa Dire, è uno spettacolo bellissimo su San Francesco e da quel momento siamo poi rimasti in contatto insomma e ci fu grande affluenza, insomma ci fu grande attesa per quello spettacolo e insomma quindi siamo rimasti ecco in bei rapporti e portiamo insieme questo progetto che è veramente un teatro quasi un teatro sociale insomma ecco quindi una roba insomma molto molto particolare allo stesso tempo è da gustare come dire perché comunque sia ci sono varie arti in questo spettacolo, mischia anche la danza, la musica, la recitazione, ci sono tanti 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 tante forme d'arte e poi sarà divertente capire perché questi attori sono tutti quanti, interpretano tutti se stessi quindi c'è da rimanere un po' così insomma incuriositi ecco da questo perché parteciperanno tantissimi artisti ecco a questa a questa a questo spettacolo e noi ci teniamo particolarmente a far capire che oggi purtroppo i casting director spesso optano più per un personaggio di facciata rispetto a discapito di uno che magari ha studiato o comunque sia ha veramente del talento. Il protagonista che è Fabio Faronato che farà un Joker moderno prendendo spunto dal Joker di Joking Phoenix lui lo renderà molto suo questo personaggio quindi viene provino in questo spettacolo eh quindi chiamato dal casting director e eh e porterà questo Joker che è veramente un pazzoide un po' un po' matto che che ha tutte le sue idee che comunque all'interno di appunto della del provino proprio tirerà fuori varie varie tematiche riguardanti appunto eh questa situazione eh che si sta creando oggi tra social realtà e e talento insomma questo questo intrigo particolare e spero insomma che 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 riusciremo insomma a colpire nel senso insomma ecco che riusciremo a a far arrivare il nostro messaggio ecco che è molto importante e anche a farvi divertire allo stesso tempo ecco grazie